Buona fortuna La vittima si chiamava Nicola Quaranta, un uomo d'affari Nessun nemico, nessun debito Patrus Decorus Nostra figlia sta facendo dei grandi progressi Respira meglio e riesce a camminare anche senza bisogno di aiuto E' più di un mese che non la vedi, Chiara ha bisogno di te Io non ce la faccio L'assassino sistema acconcia le proprie vittime con precisione maniacale Questa medaglia è una falla del suo sistema Ed è probabile che sia stato proprio lui a farcela trovare E' sempre un piacere dare una mano alle forze dell'ordine e combattere il crimine Allora, a cosa devo il piacere di questa visita? Vedi signor Galati, stiamo indagando sul recente omicidio del signor Nicola Quaranta E abbiamo scoperto che molto probabilmente la sua morte è collegata a una serie di omicidi Avvenuta più o meno un paio d'anni fa Pensate che sia io l'assassino? Che succede? Mi amore! Prighiamoci prima che qualcuno ci lasci le penne Salve Mi dica Siamo l'ispettore di Bona e l'ispettore Maletta Dovremmo farle qualche domanda Va bene Grazie a tutti